Non possiamo evitarlo. Vediamo una linea e vogliamo attraversarla. Forse per l'entusiasmo di lasciare il noto per l'ignoto. Gratulazioni. Una specie di sfida personale. L'unico problema è che, una volta che l'hai attraversata, è quasi impossibile tornare indietro. Stai bene? Sì. Tutto bene. Stai bene? Sì. Che è successo oggi? Niente. Bene. Non sappiamo niente gli uni degli altri, Giorgio. Già. Vero. Ma se fai in modo di riuscire a riattraversare quella linea, puoi trovare la salvezza nei tuoi amici. Qualcuno vuole fare sesso? Giorgio. Giorgio. Giorgio.